Ed ecco gli scherati, i concorrenti che hanno dato vita al barraggio di questo Gran Premio, del Gran Premio C-140 di oggi. Ma il binomio vincitore è uno, ed è quello composto da Argento Di Sapucci e Filippo Merinoro. Quindi è il problema di Filippo, la coppa del primo classificato e la concorrenta offentida del comitato organizzatore, consegnata dalla signora Gianna Minonne. Consigliere il premio al primo classificato è la signora Cinzia del Prete nella presentanza Grazie a tutti.